salve a tutti amici di youtube oggi vedremo un po se c'è l'origano andiamo a fare l'origano insieme sperando che ci sia un po già l'ho fatto vediamo se c'è qua l'erba non l'ho tagliata ancora perché c'è l'origano ecco qua qua c'è un po qua c'è un altro po ogni anno faccio sempre prima l'origano e poi la pulizia sembra che ci se ne sia un po la c'è un altro po qua un po cosina c'è l'erba come vedete l'abbiamo già rasata tutto perfettamente pulito qua sopra anche c'è diane che mi segue diana questo mi segue sempre no non leccare ho spray per le zanzare diana va bene poi vi faccio vedere il raccolto a dopo ecco origano raccolto non è un gran che però per la nostra provvista va bene come ho detto prima l'altro già l'ho raccolto prima quindi siamo a posto ecco diana la c'è prestella sembrava che c'era solo lei invece c'è anche zeno nascosto mimetizzato nell'erba va bene tutto pulito come ho detto prima c'è stata una fatica comunque ce l'abbiamo fatto ok diana stella andiamo ok amici ciao a tutti e al prossimo video un abbraccio salve a tutti amici di youtube oggi sono qua con zeno stella diana e mi fanno una compagnia nella mia ricerca geno mi ha indicato qua primo suono guardate qua che si vede amici sembra una moneta 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 si vediamo geno una bella moneta vediamo se riusciamo a vedere cos'è c'è qualche scritta sopra però non riesco a vedere bene sarà una vittorina non lo so poi cercheremo un po di vedere se ci nota qualcosa sulla moneta ottimo dai proprio qua vicino alla mia campagna dove ho togliato l'erba bene bene ottimo stella stella ecco un po più su della moneta vediamo un altro bel suono vediamo se sarà proviamo un po con il cartello stella che dici che uscirà eh uscirà una moneta o qualcos'altro ci siamo e ancora giù non me l'aspettavo di trovare una moneta quasi in superficie qua mi so mi segna nella nella zola vediamo che sarà non si vede niente ecco zeno che stai cercando di aiutarmi niente porcheria 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 qua mi dà un 65 67 un buon segnale lo vediamo ok ok ci siamo qua stanotte ha buttato giù tanta di quell'acqua ma tanta proprio ma tanta proprio ecco bella monetona stagno ok andiamo avanti eccolo zeno qua un tappo tappo un bidone di ferro bene amici io vi saluto il video è stato bello trovare quella moneta poi vedo di che si tratta ve la mostrerò perché anche perché qua il tempo tra poco verrà giù acqua a catenelle con i secchi ok ok amici io vi saluto con Diana che è alla ricerca di qualcosa al prossimo video ciao a tutti un abbraccio da Mimmo Massa attenzione con i secchi e e e e e e Grazie a tutti.